salve amici e amiche vi ringrazio per aver accolto positivamente la mia richiesta alla moderazione nell'ultimo video per quanto riguardava i commenti sono davvero contento di avere fra i miei iscritti delle persone così splendide come state dimostrando di essere se volete far parte di questo club siete i benvenuti qui sotto trovate il pulsante per iscrivervi e lasciarmi un mi piace mentre per quanto riguarda invece i pochi fascinorosi che continuano con minacce e insulti voglio essere molto chiaro e spendere due parole per dire come stanno le cose una volta per tutte youtube è una piattaforma molto attenta a questi aspetti fornisce infatti i nominativi di chi fa segnalazioni e minacce in modo che gli autori come me possono tutelarsi e denunciarli come è giusto che sia perché un autore di un canale deve potersi proteggere da pazzi e malintenzionati di ogni tipo dato che ho ricevuto minacce per gli argomenti che tratto perché evidentemente a qualcuno non piace che si parli delle perdite russe non piace che la russia venga rappresentata come una nazione che invade le altre e via discorrendo sappiate che youtube sa benissimo come stanno le cose la politica sull'informazione che riguarda il conflitto è molto molto chiara e sa come gestire i canali che fanno questo tipo di contenuti quindi state tranquilli che non sono di certo io a dovermi preoccupare dell'integrità dell'informazione che faccio e voglio dire non a caso molti dei canali youtube italia di cui mi avete parlato e da cui vengono questi soggetti che poi si permettono di minacciarmi questi canali non fanno altro che lamentarsi della cosiddetta censura a cui vengono sottoposti e fanno le vittime ma voglio dire un motivo per quella censura c'è in ogni caso questo mio progetto è partito a marzo 2024 e ad oggi ha quasi un milione di visualizzazioni 10,7 milioni di impressioni in cinque mesi ha raggiunto gli oltre 8 mila iscritti e continua a crescere giorno dopo giorno insomma l'impegno per crescere e fare le cose seriamente c'è tutto da parte mia non sono arrivato qui come un cretino pagato da qualche sponsor per dirle in modo semplice e non sono venuto qui per raccontarvi idiozie e prendervi in giro poi in tutti i miei video io non ho mai detto che i russi non stanno avanzando o che non stanno conquistando porzioni di territorio se la vostra critica prevenuta parte dopo aver visto due minuti di un mio video che ne dura 30 sono davvero problemi vostri non miei io non ho mai detto che la situazione è facile e che gli ucraini stanno vincendo e tutto quello che propongo è frutto delle mie ricerche deriva da altri canali internazionali e articoli che riporto nelle fonti insomma è molto semplice verificare quello che dico almeno prima di accusarmi di inventare le cose chiaramente non sono perfetto io posso sbagliare ho sempre detto che il confronto costruttivo e bene accetto e sono pronto a rettificare i miei contenuti se arrivassero delle critiche o delle informazioni accreditate che dimostrino il contrario ma un conto è fare degli errori su dei dettagli un altro è scegliere la propria missione per voler dimostrare a tutti i costi una tesi piuttosto che un'altra e c'è una grossa differenza per citare il vangelo che dice perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio quindi dovreste chiedervi se i canali italiani che fanno un certo tipo di narrazione sono altrettanto pronti alla verifica e quindi questo è il mio metodo poi se non vi piace e volete altri tipi di narrazione fatta da persone che non sanno distinguere fra un missile e un gabinetto la soluzione è molto semplice cambiate canale dimenticatemi con buona pace di tutti no che problema c'è non è la televisione questa siete voi a scegliere cosa guardare e in base a quello che guardate youtube vi propone certi argomenti ma appunto se siete finiti qui da me evidentemente l'intelligenza artificiale di youtube è davvero intelligente si può dire perché è chiaro che vi sta proponendo magari una prospettiva diversa dalla solita minestra ma sta a voi decidere se accogliere questa versione come un'esperienza una prospettiva diversa o continuare con i paraocchi come avete sempre fatto poi mi ripeto sarei molto felice se quella minuscola parte delle mini vaganti e insoddisfatti che rappresenta meno del 2 per cento dei miei spettatori andasse altrove voglio dire continuate a seguire i canali che vi piacciono nessuno vi obbliga a stare qui il 2 per cento e vi mostro proprio cosa significa quando pubblico un video ci sono sempre i cosiddetti haters che lasciano il non mi piace che poi sono sempre i soliti io lo so bene che fanno gli odiatori gli odiatori di mestiere che poi signori mei dato che la maggior parte delle persone che mi guardano sono over 70 over 60 dico io ma sapete che fare il cosiddetto odiatore o hater su youtube è considerato tipo infantile anche fra gli adolescenti cioè no prendetevi conto d'altro canto io non getto la spugna se anche una sola persona fra questo meno del 2 per cento degli spettatori che mi odiano capirà quello che sto dicendo oggi e prenderà non solo quello che dico io ma anche gli altri canali italiani filorussi con il beneficio del dubbio se questa persona insomma accetterà il beneficio del dubbio per me quella sarà una grande vittoria e sarei più che felice di accoglierlo nel club che è un club di persone molto numeroso persone che hanno sempre più dubbi che certezze quindi detto questo chiudo questa parentesi infelice e continuiamo allora rispondo subito a due domande di vecchi commenti vecchi di qualche giorno fa scusate il primo è di marco che mi chiede ciao enrico sto seguendo da un po il tuo canale e mi piacciono molto i tuoi video e i tuoi commenti volevo farti una domanda gli ucraini fra un po riceveranno gli f16 che loro chiedevano da tempo ma perché non hanno anche richiesto gli a 10 che è un fantastico aereo costruito apposta per fare la caccia ai carri armati o fare appoggio alla fanteria se ci fosse la possibilità di fare un video a proposito di questo argomento sarebbe interessante grazie e buona giornata caro marco così inizia uno dei miei libri preferiti che si chiama memoria di adriano la tua è una domanda semplice ma che richiede una risposta complessa allora f16 è un aereo multiruolo con una spiccata vocazione per l'aria aria mentre per quanto riguarda la 10 è un aereo fortemente specializzato nel ruolo del supporto aereo avvicinato detto cas è un bombardiere per dirla in modo semplice e non può fare nient'altro fondamentalmente quindi non era conveniente per gli ucraini chiedere questo aereo fra l'altro la 10 non è mai stato esportato non è così diffuso nel senso l'unico utilizzatore sono stati gli stati uniti ora se parliamo di armamenti f16 e a 10 hanno molto più in comune di quanto si crede in pratica tutto quello che può sganciare dai propri piloni una 10 può farlo anche l'f16 se parliamo di attacco al suolo almeno e può farlo meglio f16 essendo molto più veloce di conseguenza la gittata dei suoi armamenti è molto più grande cioè se parliamo per esempio di bombe e missili f16 volando oltre mac 1 può lanciare questi e queste armi molto più lontano rispetto a una 10 che poverino più di 250 270 nodi non fa parliamo di 500 600 chilometri orari l'unica differenza fra i due eri è il numero di piloni disponibili sotto le ali la 10 infatti dispone di 9 punti di attacco aria terra mentre l'f16 4 anche se più corretto parlare di due dato che i piloni interni in genere si usano per delle taniche di carburante poi ovviamente la 10 dispone del famoso cannone anticarro avenger da avenger da 30 mm però bisogna anche sfatare qualche mito per cui la 10 è l'aereo anticarro per definizione cioè sì questo forse valeva negli anni 70 però le cose sono molto cambiate nel frattempo l'uso del cannone infatti nel tempo è diventato molto meno importante di quello che si crede tendono a usarlo solo al poligono di tiro fondamentalmente questo perché per arrivare a usarlo la 10 deve avvicinarsi molto ai suoi bersagli e questo come dire non è proprio sicuro perché da terra nel frattempo potrebbero tranquillamente rispondere al fuoco molti dei carri moderni hanno anche sistemi antiaerei basati su missili senza contare che basta anche un semplice fante con un lanciamissili per abbattere un aereo così lento e così basso quindi perché usare il cannone anticarro a distanze ravvicinate quando puoi lanciare un missile aria terra tipo maverick da 15 km no è più sicuro è più efficace insomma la 10 nasce per un ruolo molto particolare di supporto ravvicinato ma non è particolarmente adatto per distruggere minacce come sistemi antiaerei o postazioni missilistiche più avanzate insomma non è un aereo per fare soppressione delle difese aeree se queste sono poi particolarmente agguerrite non a caso se guardiamo la sua vita operativa si è svolta quasi esclusivamente in situazioni di conflitti asimmetrici cioè in contesti dove altri aerei prima di lui avevano scrupolosamente ripulito l'area da potenziali minacce aeree e questi aerei che arrivavano prima della 10 quasi sempre erano f-16 e se prendiamo per esempio gli interventi in iraq fra l'operazione desert storm e desert shield a causa della risposta da terra gli americani persero 7 a 10 proprio contro sistemi di difesa russi comprati fra l'altro in tempi molto antichi che non erano proprio moderni quindi per rispondere alla tua domanda l'impiego eventuale degli a 10 contro le forze di terra russo e oggi sarebbe molto problematico senza una netta superiorità aerea di copertura sul confine sarebbero facili bersagli di tutte quelle postazioni antiaeree e missili a medio e lungo raggio che si trovano dall'altra parte a questo punto se l'obiettivo è distruggere carri armati conviene molto di più farlo con piccoli droni come avviene da due anni e mezzo a questa parte che sono fra l'altro molto più economici se ne possono usare centinaia e non c'è nessun rischio per il loro pilota lo stesso impiego degli f-16 nel ruolo anticarro sarebbe una forzatura piuttosto inutile in questo senso salvo il caso in cui vada a usare munizionamento a frammentazione come per esempio le cpu 97 che sono bombe intelligenti che si aprono in dozzine di piccoli missili che vanno a cercare i carri armati tutto quello che è ferroso fondamentalmente ma anche qui dai video che arrivano dal fronte ci sono molti casi in cui si vedono i proiettili dell'artiglieria fare questo lavoro di bombe cluster quindi a questo poi bisogna aggiungere le mine poste sul terreno i droni insomma perché rischiare degli f-16 per un caro armato se ci sono già altri sistemi più economici ed efficaci quindi questa era la mia risposta ti ringrazio per il commento e la domanda interessante andiamo avanti fabio otto giorni fa mi scriveva buongiorno enrico mi piacerebbe conoscere le caratteristiche dei più recenti bombardieri b52 e magari come fatto con i caccia fare una comparazione con altri bombardieri grazie in anticipo vorrei altresì approfittando del tuo canale se mi permetti di chiedere ai filorussi che sono disposti alla discussione senza preconcetti cosa ne pensano dell'intervento del professor aigo alexevich gundarov che io ho ascoltato con molto interesse e di sicuro non è un propagandista filo occidentale anzi ho pensato che dire quelle cose in russia si rischia molto vedete conoscere anche il rovescio della medaglia rispetto alla propaganda del governo russo aprirebbe orizzonti di riflessione e magari rendersi conto che non esiste una verità ma ci si può avvicinare ad essa un abbraccio e complimenti per il tuo lavoro di informazione nel settore avio grazie a te per questo commento caro fabio per quanto riguarda la prima parte e la tua domanda colgo l'occasione per collegarmi alle operazioni dei b52 americani in volo sopra l'europa e la germania in questi giorni qualche notiziario ne ha parlato almeno lo stesso putin se dobbiamo basarci su quello che dicono alcuni notiziari italiani lo stesso putin ha fatto delle dichiarazioni stizzite che riguardano la loro presenza io non so se queste bufale se le inventano cose come sempre bisogna prenderle con le pinze infatti la risposta di putin è una pura invenzione non c'è mai stata i comunicati stampa da parte dell'aviazione militare degli stati uniti a proposito dei b52 sono iniziati il 22 maggio scorso con quattro di questi bombardieri che sono arrivati alla base militare della royal air force a fairford nel regno unito da qui nei mesi successivi quindi da maggio fino ad oggi hanno preso parte a esercitazioni militari nell'ambito della btf e che sta per bomber task force europe un'operazione che ha avuto lo scopo di testare l'interoperabilità dell'european air group con il ruolo di questi bombardieri che cos'è l'european air group l'european group è un ente che coinvolge tutte le aviazioni delle nazioni europee e anche inglesi cioè perché è stata fondata da inghilterra e francia il terzo membro costituente stato l'italia quindi inghilterra francia italia sono i primi tra le prime tre nazioni e poi sono aggregate tutte le altre questo ha costituito negli anni 90 a partire dalla guerra del golfo visse le criticità ha costituito la cosiddetta european air group che sono le forze aere europee tutte le nazioni mantengono la loro autonomia ma c'è un comando centrale ci sono delle operazioni congiunte e si fanno continuamente esercitazioni per rendere appunto la difesa dello spazio aereo europeo coordinata e gestita insieme quindi questi bombardieri sono arrivati in inghilterra per fare delle esercitazioni coordinate con l'european air group se cercate voi stessi fra l'altro in rete è molto facile vedere questi bestioni scortati per esempio da euro fighter inglesi f16 polacchi o rumeni insomma è pieno e sono belle immagini l'ultima notizia di questi voli risale al 22 luglio quando un paio di questi aerei hanno fatto scalo in germania prima e romania poi per citare il comunicato stampa della nato che ho tradotto vi passo il link in descrizione se vi interessa leggerlo cita durante il loro dispiegamento i b52 opereranno nella base rumena vicino la costa del mar nero e si integreranno con gli alleati della nato e altri partner internazionali per sincronizzare le capacità e garantire impegni di sicurezza nell'area di responsabilità del comando europeo degli stati uniti continua poi nell'ambiente globale di oggi è fondamentale essere in grado di fornire una gamma di capacità sostenibili da grandi distanze questa interazione della bomber task force offre un'eccellente opportunità per affinare le nostre tattiche tecniche e procedure di impiego in combattimento agile ha affermato il generale james hacker comandante della dell'aviazione militare degli stati uniti per l'europa e per l'africa attraverso la collaborazione con i nostri alleati gli stati uniti consentono alle nostre forze di combattere le minacce attuali e future ha aggiunto e poi continua gli stati uniti sono impegnati a lavorare a fianco dei nostri alleati nella nato lungo il fianco orientale per garantire di avere le competenze combinate e le capacità di coordinamento necessarie per mantenere la sicurezza la protezione e la stabilità regionale gli schieramenti regolari e di routine di bombardieri strategici statunitensi dimostrano come gli stati uniti e la nato siano pronti posizionati e ben preparati a integrarsi con gli alleati e i partner della nazione ospitante per scoraggiare le minacce e difendere l'alleanza lo spiegamento di questa capacità strategica sottolinea il legame transatlantico all'interno della nato e la coesione tra le forze aeree alleate questo era il comunicato stampa ora anche nei video precedenti ho mostrato su flight radar che negli ultimi mesi c'è stata parecchia attività in europa orientale dove sono presenti infatti molti aerei logistici come awax aero cisterne che servono appunto a supportare tutte queste operazioni indicate nel comunicato e queste operazioni di logistica dobbiamo leggerle molto attentamente nel senso che essendo poi ne parlerò più nello specifico essendo tutti questi aerei integrati nel link 16 forniranno anche importantissime informazioni agli f16 ucraini quindi entriamo un po nello specifico di cosa possono fare questi b52 e anche per rispondere alla domanda di fabio l'unica versione ancora operativa di questo aereo in cui bisogna ricordarlo il primo volo del primo prototipo risale al 1947 oggi la versione più aggiornata è l'unica ancora a volare è la versione h versione moderna che ha subito numerosi aggiornamenti per svolgere non solo il ruolo di piattaforma lancia missili da crociera e armamento di caduta ma soprattutto per il suo ruolo di raccolta di dati di informazioni di intelligence ricognizione guerra elettronica e centro di comando avanzato la stessa versione poi potendo contare su otto turbo fan dispone di abbastanza energia per essere un ottimo banco di prova per le armi le armi difensive energetiche da un punto di vista di guerra elettronica il p52 dispone di un distributore alq 172 che è un dispositivo che emette un'ampia gamma di impulsi elettromagnetici in grado di disorientare i sistemi radar di scansione come per esempio sistemi awax o antenne posti a terra che prendono il nome di evr che sta per early warning radar e ovviamente disorientano anche i sistemi di tracciamento e guida dei missili terraria per semplificare un po il principio di funzionamento di questo dispositivo possiamo dire che invia delle informazioni false ai sistemi di rilevamento e le confonde un fatterello che ho trovato sul web credo che spieghi bene come funziona questo dispositivo ok durante un volo di trasferimento un equipaggio di b52 doveva atterrare presso un aeroporto civile quindi che cosa fecero chiamarono la torre come normale prassi per chiedere l'autorizzazione all'atterraggio quando ormai erano vicini all'aeroporto da terra risposero che non erano ancora vicini all'aeroporto che infatti li vedevano molto lontani e di richiamarli quando sarebbero stati nel raggio di 50 km l'equipaggio del b52 si accorse così che aveva ancora attivo questo dispositivo che è un jammer elettronico e così lo spensero a quel punto da terra richiamarono e dissero ok adesso vi vediamo sullo schermo potete atterrare quindi questo è un po il principio di funzionamento sempre per restare in ambito di avionica altri aggiornamenti importanti riguardano ovviamente il radar di scansione e mappatura del terreno basato adesso su un array digitale quindi non è più con una vecchia antenna a scazione a scansione meccanica e questo ovviamente le nuove tecnologie digitali hanno aumentato moltissimo la definizione la velocità la potenza in generale della scansione ovviamente le dimensioni in questo caso contano la potente antenna di scansione è affiancata a moderni sistema di trasmissione tra aereo aereo link 16 e i centri di comando a terra in questo modo il bombardiere diventa un aereo multifunzione con ovviamente grandi capacità dedicate per l'attacco al suolo ma non solo può fare scansioni ad amporaggio e guerra elettronica sono stati poi aggiornati tutti i sensori ottici e a infrarossi quelle due grosse gondole che si vedono sotto il uso per intenderci sono sensori come il lightning che poi è stato successivamente aggiornato allo sniper pod sono stati integrati e permettono all'aereo di attaccare al suolo di riconoscere i propri bersagli di illuminare con il proprio laser per la guida delle bombe e geolocalizzare qualsiasi cosa ad ampio raggio altre modifiche importanti riguardano l'aggiornamento della stiva di carico con un lanciatore a rullo che ha incrementato la capacità di trasporto di missili e bombe del 66 per cento ora per quanto questo aereo sia nato come un bombardiere strategico bisogna ricordare che sono aerei oggi molto anacronistici voglio dire troppo vulnerabili ai sistemi di difesa missilistici e non hanno veramente senso cioè il bombardamento strategico come esisteva nella seconda guerra mondiale oggi non esiste praticamente più non ha senso che ci sia salvo certe circostanze in cui è permesso farlo ma in un conflitto come quell'ucraino per esempio non potrebbe essere fatto non è che i russi prendono i loro tu 95 volano sull'ucraina non possono farlo quindi però sono diventate piattaforme lancia missili da crociera quindi per questo ruolo insomma sono molto più indicati e infatti oltre a questo oltre a diventare delle piattaforme lancia missili da crociera i b52 sono tutti oggi le loro i loro upgrade e i loro aggiornamenti sono in creme incentrati sul dargli più possibilità di lavoro più task quindi guerra elettronica supporto e condurre un attacco quando possono farlo operare in un ambiente multilaterale dove ci sono altri aerei dove può coordinare attacco di altri aerei eccetera eccetera poi chiaramente se parliamo della sua capacità di attacco i numeri parlano chiaro può lanciare fino a 20 missili da crociera questi possono essere contestata nucleare o meno ma 20 fra l'altro alcuni ovviamente il grosso nei rulli all'interno della stiva più altri sotto le ali può lanciare 12 grossi tomahawk che sono missili da crociera a lungo raggio o agm 137 o missili antinave insomma è una piattaforma lancia missili alla fine la lista di missili che può lanciare è molto lunga quindi per tornare al discorso dei due b52 che oggi svolazzano sopra la romania e a ovest del mar nero possiamo tranquillamente dire che un paio di questi aerei se lanciassero qualcosa come 40 armi ciascuno manderebbero immediatamente in saturazione qualsiasi difesa aerea di qualsiasi nazione anche quella degli stati uniti senza senza problemi cioè se due b52 lanciassero qualcosa come 40 missili antinave e manderebbero in crisi anche la loro stessa flotta credetemi figuriamoci qualche s 400 e 300 della russia in crimea verrebbero annichiliti e questo poi ovviamente non senza considerare il fatto che possono ospitare oltre ai missili da crociera una marea di altri missili che sono falsi bersagli che servono ad attirare la reazione dei dei sistemi missilistici nemici nemici oltre a questo poi c'è un enorme varietà di bombe la lista veramente lunga insomma il b52 h ha un carico bellico di 31,5 tonnellate è un mostro con una capacità più di tre volte superiore a quella del b29 del 1945 quello della seconda guerra mondiale quindi se dobbiamo cercare un aereo che possa essere paragonato al buff che è il soprannome dato dagli equipaggi al b52 che sta per big ugly fat fellow che significa un tizio brutto e grasso ovviamente l'unico aereo che si può avvicinare al b52 e il tu 95 russo i due però hanno grandi differenze anche se sono nati per ruoli simili come bombardieri nucleari in tempi molto antichi cioè prima dell'arrivo dei missili e quando ancora si credeva nell'utilità del bombardamento strategico in questo senso il 52 essendo spinto da 8 su turbofan ha qualcosa in più di termini di prestazioni come velocità e tangenza operativa nel senso può volare più veloce e più in alto il tu 95 essendo spinto da quattro motori turbo elica invece ha una migliore efficienza nel consumo di carburante quindi non riesce a volare più tanto veloce quanto 52 o tanto in alto ma può volare più a lungo senza bisogno di rifornire quindi se escludiamo il rifornimento in volo il tu 95 un po più di autonomia rispetto al b52 ora entrambi questi aerei come ho detto sono nati come bombardieri nucleari ma con il tempo sono stati convertiti a piattaforme lanciamissili o ricognitori marittimi nel caso del tu 95 da un punto di vista però di semplice capacità di carico come ho detto prima il 52 supera le 31 tonnellate mentre il tu 95 ha una capacità di carico di poco oltre le 18 tonnellate cioè 52 vola più in alto più veloce e porta quasi il doppio del carico di un tu 95 ma le differenze principali non sono queste solo queste ma anche negli armamenti che questi aerei possono utilizzare e anche ovviamente nelle avioniche la versione h del 52 fra rullo interno e piloni alari può lanciare fino a 20 missili cruise il tu 95 con gli ultimi upgrade è in grado di lanciare fino a 8 kh 101 che sono i famosi missili cruise russi che sono stati per esempio lanciati a sciame contro kiev qualche giorno fa e che hanno fra l'altro colpito l'ospedale pediatrico entrambi i questi aerei hanno avuto una lunga ed intensa vita operativa il 52 è operativo dagli anni 50 e ha partecipato a tutte le guerre e le campagne americane fino ad oggi stessa cosa per il tu 95 che ha partecipato anche lui a tutte le guerre russe dalla prima guerra in afghanistan, il conflitto in cecenia, l'intervento della russia in siria e oggi in ucraina il tu 95 fra l'altro è diventato famoso anche per aver sganciato la più grande bomba nucleare mai esplosa la bomba tsar quindi nonostante evidenti somiglianze almeno nelle specifiche iniziali le differenze fra questi due aeroplani sono molte e sono soprattutto negli aggiornamenti che hanno ricevuto da un punto di vista tecnologico e di possibilità come operazioni il b52 ha qualche carta in più rispetto al tu 95 mentre il tu 95 ha prestazioni migliori a quote basse e medie e per questo infatti è stato adattato ad una versione anti sottomarino come pattugliatore marittimo quindi caro fabio spero di aver risposto in modo soddisfacente alla tua richiesta mentre per quanto riguarda la tua osservazione sui filorussi onestamente non saprei ma condivido quello che dici credo che il problema di molti in italia sia la scarsa o nulla conoscenza dell'inglese e questo fa sì che si tenda ad attingere solo a fonti italiane e anche peggio solo a un certo tipo di fonti italiane ora se si è disposti a usare il traduttore di youtube voglio dire alla fine basta cliccare sull'iconcina in basso a destra e si iniziano a cercare i video scrivendo nella barra di ricerca in inglese vi posso garantire che si apre letteralmente il mondo allo spettatore la prima cosa di cui ci si accorge è che i canali filorussi non esistono a livello internazionale sono pochissimi e vengono ovviamente ridicolizzati non ce ne sono così tanti come in italia voglio dire questa cosa italiana è solo no strana su youtube internazionale praticamente non esistono sono pochissimi e ridicolizzati come ho detto la stessa cosa avviene comunque in senso opposto voglio dire a chi è che piace un canale estremista che fa i comunicati in stile sergente hartmann voglio dire ci sono ma fanno schifo la grande maggioranza dei canali più seguiti e seri internazionali sono appunto molto seri e moderati e fanno dei resoconti del conflitto che non dicono idiozie non dicono le idiozie che sentiamo solo in italia quantomeno e credo che la cattiva informazione italiana sia un problema piuttosto serio su cui fra l'altro ci combatto da una vita quindi hai perfettamente ragione sul dottor igor alexevich kundarov e su quello che ha detto ma lo stesso vale per constantine di inside russia bisogna insomma non avere un briciolo di empatia per fissarsi su certe convinzioni affidarsi a pseudo giornalisti o youtuber nostrani di parte e non capire e non riuscire a immaginare cosa significa vivere in un paese dove ti sbattono in galera per sei anni se usi un cellulare dove non devi o dici la parola guerra al posto di operazione militare speciale nessuno di noi in italia sa cosa significa vivere in russia oggi solo loro lo sanno e quindi è molto importante cercare di raggiungere le loro testimonianze delle persone che riescono in qualche modo a dire la verità e che esplodono per dire di cercare di dire quello che vogliono dire quindi come dici tu queste testimonianze sono veramente preziose e fra l'altro fanno anche molto male al cuore onestamente io ho sentito proprio il magone certe volte costanti mi mette veramente addosso una grande tristezza perché proviamo a metterci nei loro panni proviamo a vivere nella testa a essere entrare nella testa di un cittadino qualunque in russia oggi o di un padre di famiglia o di un padre di un figlio di una madre che vede partire il proprio ragazzo e non ne sa più nulla da un da due anni cioè tutte queste persone devono starsi zitte non possono dire niente non possono protestare provate a immaginare voi cosa significa stare lì perché insomma il popolo russo non ha tutte le colpe di quello che sta succedendo ci sono tante brave persone che in questo momento sono costrette al silenzio ma a parte questo voglio dire non serve andare troppo lontano per capire com'è la situazione in russia ad oggi ci sono meno di 5.000 italiani che vivono in russia 5.000 parlo di persone col passaporto italiano ovviamente non di emigrati se prendiamo lo stesso dato di italiani negli stati uniti sono oltre 360.000 italiani col passaporto che vivono lì quindi capite cosa stiamo dicendo 5.000 italiani in russia 360.000 negli stati uniti no quindi questo dato si commenta da solo su qual è il paese migliore in cui farsi un viaggetto soprattutto la cosa che mi fa più tristezza è che molti in italia hanno davvero la memoria corta e non hanno la minima idea di cosa è significato per noi negli anni 30 essere trascinati in una guerra da un dittatore invadere altri paesi ci siamo stati capaci di dichiarare guerra agli stati uniti capite cosa voglio dire e certamente sono due cose diverse sono due momenti storici diversi ma nella dittatura ci sono tante analogie no il registro è quello operano sempre con lo stesso registro la ricetta è la stessa follia mania di persecuzione e anche qui in italia la stampa e le radio furono controllate integralmente dal regime anche qui ci furono arresti e pestaggi anche qui i nostri soldati furono mandati in viaggi di sola andata e anche qui da noi era pieno di esaltati che credevano che il nostro paese stesse facendo la cosa giusta quindi no è difficile avere un'opinione neutra sulla questione ora non mi interessa la politica non mi interessa prendere le parti di un dibattito del genere però voglio ricordare le parole di un militare che ho conosciuto tempo fa che poi è diventato un caro amico che voglio dire quando si ragiona con la propria testa le idee politiche non c'entrano niente è questione di avere dei valori dei principi si stava parlando proprio della seconda guerra mondiale di quello che è successo nel dopoguerra stavamo visitando una base e lui mi disse così a denti stretti mi disse meno male Enrico meno male che ci è andata così che ci sono capitati questi alleati e non gli altri cioè riesci a immaginare quindi faccio la stessa domanda ai filo russi i filo putiniani quello che è riuscireste a immaginare un'italia liberata dai sovietici nella seconda guerra mondiale bene detto questo mi avvio alla parte finale del video di oggi in cui voglio integrare alcune informazioni pervenute in questi giorni dagli attacchi sugli aeroporti e alcune indiscrezioni sugli f-16 ucraini sono arrivate immagini dall'aeroporto di Morozov che ha perso la sua operatività oltre all'area dei depositi completamente rasi al suolo e vi mostro le immagini anche 2 su 34 sono stati pesantemente danneggiati negli ultimi 10 giorni in questo modo il numero di aerei russi perduti è salito a 5 da parte russa è arrivato per esempio un video di un pilota di su 30 che si è lanciato con il paracadute non è chiaro se sia su 30 o su 34 e non è chiaro se sia stato abbattuto da un f16 o da un patriot il pilota dice di non aver sentito nulla prima dell'impatto e poi l'incendio del motore che si vede appunto nelle immagini ma durante la discesa per lunghi minuti in cui non ha fatto altro che lui doveva solo aspettare di raggiungere il suolo accende il telefono inizia a filmare e si appunto l'aereo precipitare e lui poi dice qualcosa a proposito del gps che permetterebbe ai suoi di venirlo a cercare di rintracciarlo questo è quanto mentre per passare invece a parlare degli f16 ucraini circolano già foto e video dei primi passaggi o delle foto a terra e possiamo vedere ai piloni montati sui piloni esterni che è in 120 b questi missili sono un po più grossi vengono messi sempre ai piloni più esterni dell'aeroplano perché ne migliorano la stabilità e poi sotto ai piloni meno meno esterni vediamo gli am 9m quindi mi dispiace ma no in queste immagini non ci sono né a 120 c né ai 9x che sarebbero le versioni più recenti gli am 120 am rambi hanno una gittata più corta rispetto al c non di tanto ma un pochino più corta e avendo le ali più grandi comunque hanno migliore manovrabilità rispetto al c mentre i più moderni a 120 la versione c alle ali più squadrate corte e tozze perché questi missili furono modificati per potersi accomodare all'interno delle stive degli aeri stealth come l'f22 e l'f35 non solo ma sono anche più moderni hanno software e hardware più aggiornati rispetto ai b quindi questo è per quanto riguarda gli am 9m sono i classici missili da dogfight a corto raggio sono missili termici grazie ai loro grandi ali possono planare a lungo l'im 9m è un missile discreto che per gittata è anche superiore all'r 73 russo ma al contrario di questo non è altrettanto manovrabile non quanto l'r 73 russo e non quanto la sua versione più moderna la in 9x ora la questione sulla tipologia di missili è molto importante e delicata e dovrò tornarci più avanti io per adesso non mi spenderei troppo in dichiarazioni facili leggendo tabelle e caratteristiche di queste armi voglio dire non possiamo fare troppi discorsi basandoci su una immagine è troppo facile fare così soprattutto aspetterei prima di essere certi del tipo di am 120 e a 9 che gli ucraini potranno utilizzare anche perché secondo molte fonti americane si parla di am 9 scusate di am 120 d e c e am 9x che sono le versioni più moderne e più cattive però questo non trova conferma con le immagini le immagini mostrano tutt'altro oggi è possibile che gli ucraini abbiano ricevuto uno stock di 120 b che fanno sempre comodo e aspetterei immagini successive per darvi informazioni più certe su altri eventuali missili quindi restate sintonizzati altra cosa che si vede è molto interessante è la modifica ai piloni intelligenti quelli esterni parliamo del 4 e 6 credo che in genere sono deputati alle armi aria terra questo pilone è stato modificato con il piz pylons a a r 60 che è un sistema definito missile warning system ora non è un pod per la guerra elettronica nel senso per quel ruolo il 16 dispone già di un po specifico che è posto sotto in posizione centrale perché deve operare appunto a 360 gradi se fosse messo sotto un pilone verrebbe diciamo oscurato nella zona cieca quindi questo pilone perché è un pilone cioè sotto quel pilone si può agganciare un'arma la parte superiore del pilone a dei sistemi aggiuntivi e che non è un po per la guerra elettronica ripeto questo pod originariamente è stato ottenuto dalla danimarca quindi questi sono f16 danesi ed era stato montato già nel 2018 ha la funzione di rilevatore di fumi ed è efficace contro il lancio di missili termici a corto raggio dispone di sei sensori che sono questa sorta di telecamere che si vedono intorno che percepiscono le fiamme del lancio dei missili e si integra con il sistema di rilascio delle contromisure di bordo come funziona praticamente che nel momento in cui parte un missile per esempio missile spalleggiabile o da un altro aereo molto vicino parte un missile verso le f16 questi sensori catturano la fiammella che molto luminosa ovviamente e se programmate perché non è automatico del pilota a programmare la questione se programmate il pilota può sentire un forte suono acustico quando viene rilevato il lancio di un missile e se è programmato questo dispositivo può autorizzare il lancio delle cosiddette chaff e flare chiaro succede questo praticamente perché le f16 sulla sinistra al pannellino per programmare il rilascio delle contromisure almeno per selezionare i programmi poi questo invece si fa attraverso il computerino di bordo il che insomma può essere molto utile ma ripeto se parliamo di contromisure termiche di evasioni termiche non è solo quello non è che basta solo avere quel dispositivo se per fare in modo di evadere un missile la cosa utile di quel dispositivo è che suona emette un allarme quando rileva il lancio di un missile e questo è molto importante perché i missili termici non suonano cioè se non c'hai un dispositivo che rileva le fiammelle i fumi l'rvr non suona perché sono missili passivi cioè sono missili che si agganciano sulla fonte di calore non hanno emissioni radar quindi sicuramente è un sistema di difesa molto utile nel caso in cui questi piloti voleranno a bassa quota dove si esporranno a tutti i russi con un sistema spalleggiabile o contro le sistemi i sistemi sem a guida infrarossa quindi per oggi è tutto come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima